Il governo ha messo a punto un testo di legge per chiedere al Parlamento una delega di riforma sulla concorrenza. La cosa strana è che il testo di legge contiene una sezione che riguarda anche i comuni. I comuni non sono delle imprese, i comuni sono delle istituzioni che rappresentano la comunità che deve garantire servizi per migliorare la qualità della vita delle persone e quindi non può assolutamente essere concepita come un'azienda che produce e vende merci o vende servizi. Con l'articolo 6 del disegno di legge sulla concorrenza approvato il 4 novembre scorso il governo Draghi sferra il più grosso attacco mai tentato ai servizi pubblici locali, ai beni comuni e alle comunità di riferimento. Cosa dice in sostanza l'articolo 6? Dice che la modalità ordinaria di gestione dei servizi pubblici locali è quella della messa a gara sul mercato e quindi della conseguente privatizzazione e che la gestione in proprio, diretta o in house da parte di un comune deve essere pensata solo come straordinaria e residuale. Un comune che volesse gestire in proprio un servizio dovrà produrre una relazione dettagliata che giustifichi il mancato ricorso al mercato, dovrà inoltrare questa relazione all'antitrust per un parere e dovrà impegnarsi periodicamente a monitorare e a rimettere in discussione la scelta fatta. Evidentemente la legge è un tentativo per continuare a portare avanti questo progetto che ormai si porta avanti da una trentina di anni, definito neoliberismo, che è il tentativo di esautorare totalmente tutto ciò che è collettivo per demandare, per regalare tutto al mercato, alle aziende affinché possano utilizzare tutto ciò che è bene comune, tutto ciò che è servizio alla persona come occasione di profitto. Come tutti possono ben capire, si tratta di un tentativo di privatizzazione senza precedente. Si tratta soprattutto del tentativo di affossare definitivamente la volontà espressa dagli italiani nel referendum del giugno 2011, quando la maggioranza assoluta degli elettori votò contro la privatizzazione dei servizi pubblici locali e per una loro gestione fuori dalle logiche del profitto. La logica che ci sta dietro è quella di trasformare assolutamente qualsiasi necessità della persona come occasione di affari per le imprese e ciò va contro il dettato costituzionale che invece prevede che tutta una serie di servizi debbbero essere garantiti come diritti alle persone e il diritto è un qualche cosa che deve essere garantito dalla collettività in forma gratuita attraverso il concetto della solidarietà. In questo ambito debbbero rientrare assolutamente la gestione dell'acqua ma anche la gestione dei servizi come i rifiuti e come i trasporti. Ma il governo Draghi fa ancora di più. Mina alle basi il ruolo dei comuni che da enti garanti dei diritti, erogatori di servizi e di coesione sociale per la loro comunità di riferimento, vengono trasformati in enti il cui unico compito è mettere tutti i servizi, tutti i beni comuni e la ricchezza collettiva sul mercato. Bisogna in tutti i modi insorgere, tanto per utilizzare così una proposta, una sollecitazione che ci viene da parte dei lavoratori della CKN per difendere assolutamente tutto ciò che è bene comune e tutto ciò che è servizio essenziale dalle grinfie del mercato e riportarlo invece alla gestione collettiva. Non possiamo stare a guardare. Dobbiamo tutte e tutti impedire questo nuovo furto di democrazia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.